Al governo Monti servono altri 20 miliardi, oltre i 60 già rastrellati dalle due manovre estive del governo Berlusconi, totale 80 miliardi in un anno, 2000 euro per ogni cittadino maggiorenne, guarda un po' la combinazione, proprio 80 miliardi secondo la Corte dei Conti sono il costo del sistema della corruzione, pure l'idea di combattere la corruzione non è che sia proprio all'ordine del giorno, finora Monti e i suoi ministri la parola corruzione non l'hanno ancora pronunciata e speriamo che stiano preparando una legge severissima in segreto per non spaventare i partiti che appoggiano il governo perché ci dicono che è un governo liberista e speriamo che sia vero, non c'è bisogno di grande fantasia per scriverla questa legge anticorruzione, basterebbe cominciare a ratificare la convenzione internazionale anticorruzione che l'Italia ha firmato a Strasburgo nel 99 ma non l'ha mai tradotta in legge nessun governo fino a oggi, siamo l'unico paese europeo che se ne è scordato, infatti da noi non sono reato l'autoriciclaggio, il traffico di influenze illecite, la corruzione fra privati e di fatto nemmeno l'abuso d'ufficio e il falso in bilancio e nemmeno il conflitto di interessi è reato, la legge Frattini che Dio lo perdoni non prevede sanzioni né penali né amministrative ma soltanto morali perché disse Frattini il migliore deterrente è la sanzione morale, una sputtanatina, il ministro che favorisce se stesso e gli amici rischia al massimo la pubblicazione della sua birichinata in fondo al bollettino parlamentare alla voce varie ed eventuali, cioè i lettori del bollettino parlamentare che saranno 2-3 al massimo su 60 milioni di abitanti vengono a sapere che è stato cattivo e quando lo incontrano lo guardano storto, magari gli dicono birichino e gli tirano le orecchie, è un deterrente potentissimo. Ai tempi di Tangentopoli gli imprenditori pagavano i politici perché truccassero gli appalti e poi pagavano i controllori perché chiodessero un occhio, oggi basta pagare i politici perché fanno pure i controllori e si accontentano delle briciole, spesso non c'è nemmeno bisogno di pagarli perché i politici hanno aziende, fondazioni, associazioni, giornali e si fanno ripagare con commesse, consulenze, finanziamenti e pubblicità, così nessuno controlla più nessuno e i costi delle opere pubbliche esplodono e le aziende falliscono o vanno in perdita, sarà un caso ma la famosa alta velocità ferroviaria da noi ai costi più alti d'Europa va da 20 a 96 milioni di Euro a chilometro contro i 10 della Francia e i 9 della Spagna, tutto costa il doppio o il quadruplo e oggi sarà un altro caso ma il treno Roma-Palermo impiega 34 minuti in più che nel 1975, anche questo è mettere le mani nelle tasche degli italiani solo che almeno delle tasse ce ne accorgiamo mentre invece la corruzione è una tassa occulta e poi molti politici rubano pure come se non gli bastassero i 217 milioni all'anno che prendono di finanziamento pubblico camuffato da rimborsi elettorali, sono insaziabili. A volte abbiamo questa mazzetta super accessoriata col conflitto di interessi, a volte invece basta il conflitto di interessi senza nemmeno la mazzetta, partiamo dall'estrema sinistra. Puglia, Alberto Tedesco racconta che Nichi Vendola appena diventò governatore la prima volta nel 2006 lo chiamò a mezzanotte, poche ore prima di presentare la sua giunta e gli offrì l'assessorato alla sanità, lui tedesco obietta che i suoi figli hanno delle aziende che forniscono le ASL della Puglia e quindi chiede un altro assessorato meno imbarazzante, meno in conflitto di interessi, ma Vendola, dice sempre tedesco, è irremovibile o la sanità o niente. Poi nel giro di due anni tedesco deve dimettersi perché è indagato per corruzione e altri reati proprio con l'accusa di avere favorito da assessore le aziende dei suoi familiari, a quel punto che fa il PD lo manda subito in Senato e così quando i giudici chiedono di poterlo arrestare il PDL vota contro per far capire che anche il PD è uguale a tutti gli altri e veniamo al PD, che cosa fanno questi del PD? Nominano l'ex consigliere al ministero di Bersani, un certo Franco Pronzato, responsabile del loro partito per il trasporto aereo, che ci faccia un responsabile del trasporto aereo in un partito non si è capito, comunque già che ci sono lo infilano pure nel consiglio d'amministrazione dell'Enac, lente che deve vigilare sull'aviazione civile. Pronzato usa questa seconda carica per favorire una ditta, la Rotcoff della famiglia Paganelli che punta a gestire la linea aerea Firenze-Pisa-Isola d'Elba, in cambio paga una tangente a Pronzato e al mediatore dell'affare, un certo Vincenzo Morichini, amico di D'Alema e procacciatore di finanziamenti per la fondazione di D'Alema italiani e europei. Risultato, Morichini in cassa soldi, Pronzato in cassa soldi, la fondazione di D'Alema in cassa soldi, D'Alema vola gratis sugli aerei della Rotcoff, salderà il conto soltanto quando l'inchiesta appurerà che Morichini non aveva pagato il conto e il volo Toscana-Elba intanto salta, così gli elbani per andare all'isola continuano a non poter prendere l'aereo e a muoversi in auto e in traghetto. Ecco forse perché la sinistra non ha mai fatto la legge sul conflitto di interessi, perché o non sa che cosa sia il conflitto di interessi oppure lo sa troppo bene, eppure per evitare guai basterebbe non andarseli a cercare, se metti il topo nel formaggio poi non ti puoi meravigliare se quello il formaggio lo mangia. Chi doveva vigilare sulla protezione civile? Bertolaso e Gianni Letta, protettore di Bertolaso, l'hanno fatto, non sembra proprio, gli appalti finivano sempre ai soliti noti, la cosiddetta cricca, tipo quel Diego Anemone che poi faceva pagare a Bertolaso dal suo architetto l'affitto di un piedatteri in via Giulia a Roma, dava lavoro a sua moglie e a suo cognato, lo ospitava al famoso Salarias for Village, per quei massaggi alla cervicale molto particolari, al termine dei quali Anemone mandava un incaricato a far sparire i preservativi, dove ti mettano il preservativo durante il massaggio alla cervicale non si è mai capito. Risultato di questo pappa e ciccia fra controllori e controllati, le opere del G8 poi saltato della Maddalena dovevano costare 295 milioni, ne sono costati 476 e per le celebrazioni dei 150 anni dell'Udita d'Italia solo il Parco della Musica di Firenze che doveva costare 80 milioni ne è costati 236, il quadruplo, anzi il triplo chiedo scusa. La storia di questo Anemone è molto significativa, questo nel 2001 lavorava già per il Ministero dell'Interno, arriva Ministro Scaiola e lui che cosa fa? Scaiola lo dovrebbe controllare, ma è difficile controllarlo Anemone perché gli ristruttura subito una casa vicino a Palazzo Grazioli, poi gli ristruttura l'ufficio, poi gli ristruttura un altro ufficio e poi gli paga anche 900 mila Euro per l'altra casa, quella famosa con vista sul Colosseo. Come fai a controllare uno che ti paga e ti ristruttura tutte quelle case? Il San Raffaele di Don Verzè, stessa storia, prendeva vagonate di milioni pubblici, dalle regioni e dallo Stato per gli accreditamenti sanitari, chi deve controllare milioni e mezzo di fondi neri e poi controllore dei controllori, il Ministro della Salute, Ferruccio Fazio, che però era primario del San Raffaele e lavorava pure per il San Raffaele con una sua ditta privata, la Tecnodim. Quando il fatto lo ha beccato in questo conflitto di interessi ha detto ma io l'ho risolto, ho girato la società a mio figlio e allora non c'è più il conflitto di interessi. Il risultato di questi bei controlli non fatti è che il San Raffaele oggi è al fallimento con un buco di un miliardo e mezzo. Poi c'è Finmeccanica, abbiamo sentito il Presidente Guarguaglini che deve controllare la Selex ma non può perché la Selex la amministra sua moglie Marina Grossi e tutti e due li dovrebbero controllare il Governo e il Parlamento, compresi quei politici che ora sono sospettati di aver preso soldi da Finmeccanica e da società consociate o collegate. Poi ci sarebbe anche il controllo della Libera Stampa che però fa una certa fatica a controllare Finmeccanica perché Finmeccanica fa pubblicità su molti giornali, cioè uno la mattina apre un giornale vede la pubblicità di Finmeccanica e corre a comprarsi un elicottero, un cacciabombardiere, un radar e un carro armato. Abbiamo sentito parlare di La Russa, la Russa tra le varie cose, il segretario meglio di La Russa, chiama un dirigente di Finmeccanica e lo prega di fare da Bancomat. Che cosa dovrebbe fare Finmeccanica? Sponsorizzare la festa dell'anno scorso del PDL a Milano, manco appunto fosse il Bancomat dei partiti. Evidentemente anche tra gli elettori del PDL è pieno così di gente che vuole sapere qual è l'ultimo modello di carro armato o di cacciabombardiere Finmeccanica, però La Russa è il ministro della difesa, cioè teoricamente il controllore di Finmeccanica. Allora come fa Finmeccanica a dirgli di no? Infatti nell'intercettazione si sentono i due dire Finmeccanica non deve risultare nella sponsorizzazione, dobbiamo trovare una società terza in modo che nessuno trovi nulla da ridire. Poi c'è l'Enav, l'ente nazionale assistenza al volo, quel di Lernia che abbiamo visto ha raccontato di quella tangente che dice di aver portato nella sede dell'Udc destinata a Casini, ma Casini e Cesa non c'erano e allora l'ha data al tesoriere insieme all'amministratore dell'Enav Pugliesi. Casini dice che non è vero e naturalmente noi ci dobbiamo credere fino a prova contraria, però usa un argomento strano, dice la tangente è impossibile perché chi mi accusa non è mica Santa Maria Goretti. Ora Di Lernia è un imprenditore che ha detto di avere pagato tangenti, è per questo che i magistrati lo stanno a sentire, se fosse Maria Goretti nessuno se lo filerebbe, perché? Perché Maria Goretti non paga tangenti, quindi l'argomentazione non è che regga molto. E poi neanche il tesoriere dell'Udc, quello che stava nell'ascensore è proprio Maria Goretti, perché è stato arrestato nella tangentopoli messinese e se l'è cavata con una soluzione, due prescrizioni e una condanna definitiva a sei mesi per abuso d'ufficio. Infatti Casini cosa ha fatto? L'ha subito portato in Parlamento tre volte per tre legislature, insieme a Cuffaro, Romano e altri gigli di campo e l'ha addirittura promosso tesoriere del suo partito. Ma santo Dio se metti la volpe a guardia del pollaio non è che puoi meravigliarti se poi la volpe mangia le galline. Il risultato di questo bel magna tra controllori e controllati a Finmeccanica Enav è Borgoni che dice di avere intascato 7 milioni di fondi neri facendone rientrare 5,5 con lo scudo fiscale. Cola, quello che ha la svastica tatuata sul collo, consulente di Finmeccanica, che si è messo in tasca 16 milioni di Euro. Martini, l'ex calciatore della Lazio che ora è Presidente Enav, è accusato da altri indagati di essersi preso 2 milioni. Intanto il gruppo Finmeccanica in condizioni finanziarie penose con un miliardo di buco e migliaia di lavoratori a rischio o già sulla strada. Dimenticavo, a Finmeccanica aveva avuto una consulenza da 6 milioni di Euro, anche una certa Debbie Castaneda che non è una scienziata o una top manager, era Miss Colombia e in Italia aveva un amico, indovinate chi? Naturalmente il Cavalier Silvio Berlusconi, ma con Finmeccanica trafficava anche la vitola e persino Giampi Tarantini, che puntava a 14 appalti per 100 milioni, ce la stava per fare perché Berlusconi si era scomodato e aveva chiamato per lui direttamente Guarguaglini, chissà come poteva rendersi utile Giampi Tarantini a Finmeccanica, forse nel settore import escort.